Due giovani che stanno completando la prima fase di formazione del servizio civile. Allora un primo bilancio, intanto lei in quale settore è impegnato? Io sono nel settore sanitario, precisamente lavoro in un centro di salute mentale a Settimo Torinese. Ecco, una prima esperienza, una prima fase soprattutto di formazione, poi ci si butta in qualche modo nel mondo del lavoro. Sì, può essere visto come una specie di limbo, di spazio preparatorio al mondo del lavoro, anche se io non mi sto formando su questo, quindi prendo tutto quello che mi può dare a livello formativo e umano. È facile avere informazioni sul servizio civile per un giovane? Ma io personalmente ho ricevuto una lettera dal comune, quindi nel mio caso è stato facilissimo, ci sono i siti della città metropolitana, ci sono i siti del servizio civile, è una cosa molto conosciuta e molto connessa. L'attività è molto diversa da quello che viene insegnato nella formazione scolastica, cioè è quello che si aspettava, è qualcosa di diverso, il mondo del lavoro? Ma ovviamente non, come dire, finché non lo provi non sai com'è, quindi sicuramente un po' è diverso, la formazione devo dire è stata adeguata, assolutamente. Ecco, ci racconti anche lei la sua esperienza, intanto lei dove sta facendo sul servizio civile? Io sono impegnata all'istituto comprensivo di Mongrando, che è un paese a Biella, in una scuola, è un'esperienza bella, non è un'esperienza inerente al mio titolo di studio, però quando ho fatto la domanda, cioè il bando, ho partecipato al bando, ho proprio scelto un istituto comprensivo, perché essendo laureata in servizio sociale volevo un'esperienza diversa che non la comunità, piuttosto che i centri di salute mentale o i consorzi. Mi trovo bene, lo consiglierei ai giovani perché, come ripeto, è una cosa che ti forma e ti permette di arrivare al mondo del lavoro preparato, anche se la situazione lavorativa è un po' precaria al giorno d'oggi e spero di poter comunque lavorare o nell'ambito scolastico o comunque in un ambiente inerente a quello che ho. Ecco, ma per dare un'idea a un giovane che ci ascolta, ci vede, la sua giornata in poche parole, quando lei arriva che attività svolge? Io tendenzialmente mi occupo di assistere i bambini che hanno delle difficoltà o extracomunitari, quindi dovuti al linguaggio, oppure proprio bambini che hanno bisogno del sostegno, quindi che hanno delle disabilità e la mia giornata è così. Oppure mi occupo, cioè vado ad aiutare i bambini sulla classe, facciamo le attività, partecipo alle gite e questa è la mia giornata tipo, però è una cosa divertente perché stai sempre a contatto con i bambini. E' diverso da quello che ha studiato a scuola? Se lo aspettava così o è diverso? No, assolutamente diverso perché comunque è un mondo del lavoro, hai un'altra responsabilità e poi le cose che ti vengono comunque spiegate devi sempre metterle in pratica e la pratica è diversa purtroppo dalla teoria. Grazie, vi ringrazio.